Cari amici, io so da molto tempo dell'impegno di Ruben Gennaro per realizzare questo film che dovrebbe essere un coronamento brasiliano del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi. Credo che sia molto importante che oltre le opere che si sono realizzate in Italia, oltre a certi filmati più ampi che si sono realizzati in Brasile ci sia proprio un film dedicato a Giuseppe e Anita Garibaldi che sia fatto da un brasiliano che ben conosce l'Italia, che ben conosce i personaggi. Per cui sarei lieta di sapere che c'è il massimo impegno da parte da tutta la squadra che realizza questo film in modo che questo sia realizzato. Anzi, spero che quando tornerò, spero prestissimo a Curitiba, io possa vedere questo film assieme a Gennaro e forse assieme a voi tutti.